Allora abbiamo il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, buongiorno sindaco, la vedi in onda. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno, non so se era già in collegamento mentre io e Chetti ragionavamo sulla questione legata alle criticità di un'emergenza, come abbiamo sottolineato, nazionale, aggiungo internazionale e chiaramente tutto quello, mondiale ovvio, sì, tutto quello che ne è conseguito. Ragionavamo anche sul pezzo giornalistico uscito ieri sera su Report durante la trasmissione di Rai 3, lei l'abbiamo vista nelle immagini e sappiamo che è stato coinvolto ma forse non le è stata data voce per raccontare anche quello che è stato fatto al di là dell'emergenza. Sì, la troupe di Report è venuta da me in ufficio nel municipio di Tortona domenica 29 marzo. Mi hanno fatto una lunga intervista, circa 40 minuti, e non è stata poi trasmessa. Da un certo punto di vista sono contento così, perché evidentemente si è cercato di evidenziare quello che non ha funzionato. C'è questa immagine che vediamo di quando è venuto per la terza volta il capo dell'unità di crisi, il dottor Raviolo a Tortona, durante l'episodio della casa delle piccole suore missionarie della Carità, che ha fatto tanto scalpore per come si è tutelato, mentre invece altri medici non avevano accesso alle stesse misure di tutela. È anche vero che per questo motivo lui non avrebbe dovuto tutelarsi, forse se avessimo perso il capo dell'unità di crisi avremmo avuto dei problemi organizzativi ancora maggiori. Il problema non è tanto quello che aveva lui a disposizione, ma che non avevano a disposizione gli altri. Non l'avevano a disposizione perché non l'avevano a disposizione non solo in Piemonte, ma in tutta Italia e in tutto il mondo, perché c'è una grossa problematica nell'approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale. E francamente lo so bene perché li sto acquistando con il Comitato Tortona per ospedale, proprio per i sanitari del nostro ospedale. Abbiamo già speso 521 mila euro di donazioni che ci sono state fatte al nostro Comitato, che ha raccolto 1 milione e 200 mila euro principalmente con una grossa donazione da parte della famiglia Gavio e poi da 7 mila altre donazioni di cittadini e imprese del Tortonese. E noi abbiamo cercato di supplire a quelle che sono state le difficoltà iniziali nella gestione di questa emergenza. Chiaramente... Sì, prego. No, no, mi scusi se siamo interrotti. Infatti, quello che secondo me è importante sottolineare è che noi non dobbiamo assolutamente, e parlo come noi giornalisti, non dobbiamo assolutamente farne una questione politica al di là del fatto che, insomma, si sa molto bene quale sia la natura di partenza di report. Ecco, noi vorremmo chiedere a voi, amministratori, che, visto e considerato che si parla del fatto che dovremmo convivere con questi coronavirus che sono di volta in volta, che possono mutare, cioè che noi cittadini possiamo vivere queste emergenze in una maniera più sicura. Ecco, questo è quello che noi chiediamo a voi, amministratori. Noi, parlo, come dire, di noi giornalisti totalmente apolitici. Certo. Beh, effettivamente il mondo è cambiato radicalmente dall'arrivo del coronavirus. Il mondo che verrà dopo sarà diverso da quello che era prima, inevitabilmente. L'importante è riuscire a gestire questi cambiamenti nel migliore dei modi possibili. Noi, francamente, abbiamo visto nella trasmissione di ieri alcune situazioni preoccupanti. Certo, si è evidenziato che le ASL non erano strutturalmente preparate. Non lo erano in Piemonte, come non lo erano altrove. E forse anche perché negli anni si sono fatti una serie di tagli alle spese sanitarie che poi abbiamo pagato. Si è detto che all'inizio della crisi c'erano due laboratori che potevano effettuare tamponi in Piemonte. Non si è detto che adesso ce ne sono 19. Si è detto che all'inizio c'erano 240 letti di rianimazione. Non si è detto che adesso ce ne sono 380. In buona sostanza si è fatto molto per affrontare questa emergenza. Quello che probabilmente non è trasparso dal servizio di ieri sera è stato proprio questo sforzo gestionale. Le magagne sono state grandissime, ma perché c'era una struttura non preparata. Anche il software stesso delle email non era lì da ieri, non era lì da maggio. Era il software dell'ASL ormai da anni. E evidentemente questa emergenza ha fatto emergere quella criticità che deve essere affrontata. Allo stesso modo, gli ospedali non avevano le capacità di riuscire a agire tempestivamente. Si è fatta richiesta di specifici commissari, come ha detto anche l'assessore Riccardi nel video. I commissari sono arrivati e le cose hanno iniziato a funzionare. Sì, il periodo più critico è stato proprio quello iniziale. Da noi a Tortona abbiamo avuto il primo ricovero il 29 di febbraio, la prima positività il primo di marzo. E poi abbiamo avuto la trasformazione in Covid hospital tra il 4 e il 5 di marzo. Quei giorni intermedi sono stati sicuramente i giorni più difficili, così come anche quelli immediatamente successivi. Dove ricordo ci sono stati i medici che non potevano uscire dall'ospedale di Tortona per paura di infettare le proprie famiglie. Sono stati svariati i turni senza sostituzione all'interno, medici e infermieri. È stato sicuramente un periodo difficile. Poi si è lavorato perché non si ripetesse più una situazione di questo genere. Grazie signor Sindaco, grazie e come sempre buon lavoro. Grazie mille. Grazie.